Rileva le temperature, rileva se ci sono fiamme vive, rileva se c'è insomma dei pericoli a cui i soccorritori non devono e non possono essere sottoposti. Lui è Omega, robot soccorritore, si tratta dell'ultima creazione degli studenti dell'ISIS di Bibbiena. I giovani inventori che negli anni passati avevano ideato il seggiolino Selva Bebé puntano nuovamente tutto sulla sicurezza. Omega è stato infatti pensato per aiutare i soccorritori durante le operazioni di ricerca e soccorso, soprattutto nei luoghi colpiti da catastrofi. Serve per fare una mappatura dell'ambiente, dell'evento dove i soccorritori potranno andare ad intervenire in piena sicurezza. Al suo interno ha due PLC che sono come dei microcomputer, uno dei quali dialoga con un touchscreen a colori da 7,2 pollici e ha ben quattro Arduino Uno e un Arduino Omega e nove sensori di vario tipo. Posso far muovere attraverso il PLC con un percorso che noi impostiamo oppure si può guidare attraverso il suo radiocomando. Il robot è in grado di trasportare grazie alle sue otto ruote motrici per suono d'attrezzature per il primo soccorso e anche dotato di un drone. Fotografa l'ambiente, vede dove sono i pericoli, individua persone eventualmente da aiutare. All'interno di Omega anche un'altra creazione sempre degli studenti dell'istituto casentinese, si tratta di Romeo, il robottino in grado di intercettare sostanze nocive in ambienti ad alto rischio. Sensor di gas, MQ135, poi c'è il sensore di temperatura, sensore di fiamma via e sensore di scorsi. Adesso gli studenti tenteranno la scalata al Maker Faire, il più grande evento europeo sull'innovazione. Abbiamo deciso ormai da anni di non farli lavorare su cose standardizzate, ma su progetti che li possano permettere anche di acquisire delle competenze di cittadinanza.